E dov'è che vanno? Vedetemi un figlio, c'è stato rapido, sì, mi hanno portato via il figlio. No, davvero? Cosa è successo? No, 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 ragazzi, non mi va di passare. Ti prego! E va bene, io vivo sulla parola ancora lì, sono sosto molto, molto lontano da qui. Che bello, sarà una storia vigente. Sì, sì, sì. Nemo? E se non fosse sempre stato così severo con lui, non sarebbe successo. Comunque si è spinto alla, non in una barca, e mentre era lì, sono arrivati lì, su. E ho cercato di fermarmi, ma la barca era troppo veloce, ma allora lui, la barca era troppo veloce, ma allora lui, la storia.